Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Fiori Prodico 65 Aguilas Coop, della pagina Facebook Aguilas Coop, tutti gli amici di TikTok, di X, di Instagram, di Facebook, tutte le pagine che abbiamo, quindi su tutte le piattaforme dove siamo presenti con il nostro progetto editoriale Fiori Prodico 65 Aguilas Coop. Di cosa andiamo a parlare oggi? Amici miei è successo l'ira di Dio, una cosa del genere non si era mai vista nel mondo dei VIP, nel mondo della musica, nel mondo dell'arte, dove volete metterla non era mai successo. Tutti contro un solo artista, questo artista è Morgan, 51 anni, tutti scatenati contro Morgan, Anna Lisa, Elodie, Emma, Elisa, Levante, Mengoni, Ermal Meta, Ramazzotti, tutti contro Morgan, perché accusato e mandato a processo dalla sua ex Angelica Schiatti per stalking. E con lo stalking, amici miei, in Italia si va in galera, si va in galera, si rischia, amici miei, sino a 12 anni di carcere, si è reiterato lo stalking, come è successo in questo caso, di Morgan per quattro anni. Il caso Morgan ha sconvolto il mondo dello spettacolo, complessivamente, per l'accusa della sua ex compagna Angelica Schiatti, oggi compagna del cantante Calcutta, per stalking reiterato, ed è molto grave questo, arrivata dopo un periodo di calma apparente appunto del nostro Morgan, che ci ha abituati ormai a delle sue fuoriuscire appunto, oppure a farla fuori dal vaso. Morgan ormai noto al mondo per il suo essere sempre fuori le righe. Partiamo da X Factor, ricordate quello che ha fatto X Factor, no? Il litigio clamoroso con Ambra Angiolini e poi la lite, possiamo dire, clamorosa, furiosa con Fedez e qui l'espulsione dalla giuria appunto di X Factor di Morgan. E Morgan chiamò in quel caso Fedez mafioso, mafioso, e che era lui che organizzava X Factor, era lui che gestiva i vincitori e tutto così via. Quindi accuse molto terribili, dall'altro sono andati a processo, Morgan per questo è stato comunque condannato. Poi ricordiamo la figuraccia storica fatta al Festival di Sanremo con il compagno ed allora Bugo, Bugo, che lo lasciò lì come un pilone appunto sul palco. Lui lo attaccò clamorosamente eccetera, furono squalificati e tra l'altro Bugo denunciò Morgan e Morgan da questa accusa è stato assolto. Poi abbiamo tra l'altro il duro attacco, tutte le figuracce che ha fatto Morgan per arrivare poi a questo distalking dell'ultima, la figuraccia che fece con la Premier Giorgia Meloni, fece un'intervista in cui attaccò duramente Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. Secondo, Morgan avrebbe promesso a Morgan un programma in Rai, poi è venuto meno e quindi ha dato della vigliacca a Giorgia Meloni su tutti i giornali, quindi anche lì con querele e contro querele, dicendo che aveva promesso un programma in Rai che in campagna elettorale si era speso durante le ultime elezioni politiche del 2022 e quindi ha combinata delle altre. I suoi attacchi omofobi, quindi attaccando tutta la comunità LGBTQ in cui erano addette tutti i colori, con tutti i suoi rappresentanti, ma andiamo avanti. E poi la farsa, quella farsa di cui si prestò, anche per questo Silvio Berlusconi, anzi Silvio Berlusconi all'epoca ancora stava benino, stava per mollare, da lì a lì al figlio per Silvio Berlusconi, quindi l'altro grave errore, ma non c'era altro, quindi ha dovuto lasciare forse al figlio, quindi la farsa, che ricordate tutti, a pomeriggio 5, quando ci fu il pignoramento della sua casa e lui si attaccò con le catene vicino al cancello e poi lì fu aiutato da Sgarbi. E poi alla guerra con quelli del fatto quotidiano, e infatti non ha perso occasione, Selvaggia, Lucarelli, del fatto quotidiano di attaccare Morgan su questo caso, ma erano già vecchie le questioni fra Morgan e quelli del fatto quotidiano, vale a dire i vari scansi, tutti questi giornalisti di quattro soldi, scansi, travagli e sommi, Lucarelli, eccetera, gente che non conta nulla, quindi per quanto riguarda le informazioni. E poi arriviamo alle molestie, all'ex fidanzata, oggi compagna del cantatore Calcutta, Angelica Schiatti. Tutto il web si è riversato contro Morgan, come mai nessuno in passato, non era mai successo una cosa del genere. A postare riflessioni contro Morgan sono stati questi artisti, immaginate amici miei quanti sono, sono tanti. Anna Lisa, Aurora Ramazzotti, Emma, Levante, che è stata già vittima di Stolkin in passato da un suo ex, Elodie, Angelina Mango, Elisa, Ross Villan, ma Alessandra Amoroso, ma anche esponenti uomini, voglio dire, come Marco Mengoni, Diodato, Ermalmeta e tantissimi altri. Tutti contro Morgan. Prima ha iniziato Calcutta, fidanzato oggi di Angelina Schiatti, 35 anni. Poi tutti gli altri hanno dedicato un pensiero condannando i terribili gesti atroci di Morgan. Tutti sconvolti da quanto accaduto. A lanciare la scintilla è stato il fidanzato di Angelina Schiatti, quindi Calcutta, parlando di fatti atroci che lo hanno visto coinvolto direttamente tramite amici miei, sentite alcune chat di Telegram ormai pubbliche per testimoniare il lungo periodo di Stolkin all'ex fidanzata Angelina Schiatti. Durato quattro anni, quattro anni di Stolkin. Morgan fuori di testa, è impazzito, non lo so. Morgan dopo le accuse è stato quindi scaricato, immaginate dalla casa dopo queste accuse di Stolkin, quindi l'ha scaricato la sua casa discografica, appena fatto il contratto. Fatto il contratto, esce la denuncia, viene quindi portato in tribunale e dopo due mesi la sua casa discografica, la Warner Music Italia, lo scarica e lo scarica anche la Rai. Morgan, amici miei, era in palinsesto, stava per partire con un nuovo programma in Rai, Roberto Sergio, l'amministratore delegato Rai, lo blocca. Basta, Morgan non va più in onda, le cose sono troppe gravi, niente a programma. E in questo caso, altro che Giorgia Meloni eccetera, Tele Meloni, quindi magari qualche portavoce di Giorgia Meloni era intervenuto presso la Rai, quindi aveva dato la possibilità a Morgan di stare in Rai, ma per questo fatto è stato cacciato. Tutti lo hanno abbandonato, anche se non sono mancati, a dire la verità sul web, è vero che tutto il web, tutti i VIP, quindi contro Morgan, ma ci sono stati anche quelli che hanno detto che molti hanno strumentalizzato questo fatto per la loro sporca visibilità. Vi porto qualche frase, qualche possiamo dire post che è stato messo quindi su X, su TikTok eccetera, dove appunto si è potuto metterli. Belle le storielle che durano 24 ore sulla scia del momento o i cuoricini. Scrive un'altra persona, come sempre sono le parole alla ricerca di consensi social. Perché diciamocelo chiaramente, gli artisti non stanno perdendo nulla, anzi, e non hanno, e non ha senso neanche diffondere la lista come medaglia al valore. Praticamente in sostanza dicono, questi stanno strumentalizzando la situazione di Morgan, della denuncia fatta dall'ex compagna contro Morgan, per mettersi queste medaglie al petto, quindi a scrivere post che non hanno senso. Ma chiaramente sono, la verità, che la cosa è molto molto grave e Morgan sta rischiando davvero tante. Morgan, 51 anni, diventato ex cantante dei Blue Vertigo, lui era il frontman, quello che cantava, ha minacciato la sua ex Angelica Schiatti con accuse molto forti. Sentite le frasi che scriveva Morgan su Telegram, nella chat su Telegram all'ex Angelica Schiatti. Scordati, qualunque carriera l'hai voluto tu, ti voglio morta. Ora i buoni, ora quelli che erano i buoni diventano i cattivi. Poi vediamo chi ride e chi è finito. Sei una stronza, non avrai futuro. Questi erano il tenore delle minacce di Morgan, delle parole di Morgan. Dal processo emerge, tra l'altro, che Morgan, verso la cantante Angelica Schiatti, avesse una vera ossessione. Ossessione. Quindi qui davvero rischia il carcere, amici miei. Qui non ci sono attenuanti. Ossessione. Con minacce di morte. Morgan ha lasciato traccia, purtroppo, per lui, in molti messaggi che hanno portato all'attuazione del Codice Rosso. Codice Rosso è il più alto codice che c'è a difesa di una persona che rischia la vita. Adirizzolo il Codice Rosso. Ma cosa fa la nostra magistratura? Quindi mette, attiva il Codice Rosso, quindi denunciato Morgan, ma non è stato disposto il divieto di avvicinamento. Quindi quello sì, Morgan ti può uccidere, però si può avvicinare a te. Assurdo. La nostra magistratura è assurda. Dice Angelica Schiatti, chiaramente su Instagram, e lo dice con il cuore in mano. Mi sono sentita e mi sento molto sola. Sono stata abbandonata, tradita e pugnalata dalle istituzioni. Ma ha ragione, voglio dire, se attivate il Codice Rosso e dite che quella persona può uccidere e non disponete il fatto di restringere, quindi il fatto che si possa avvicinare o meno, è chiaro che ha dell'assurdo. Calcutta, il fidanzato di Angelica Schiatti, dice i fatti riportati nell'articolo sono solo una piccola parte e hanno modificato la nostra vita. O meglio, dice dall'atto Calcutta, non sapendo quello che poi sarebbe succeduto dopo, guarda cosa dice Calcutta. Ho interrotto il contratto con la Warner Music quando hanno deciso di offrire un contratto a Morgan, ma Calcutta non sapeva che da lì a poco la Warner Music avrebbe strappato il contratto a Morgan. Quindi, molto in mente, ti hanno dato quelli della Warner Music, caro Calcutta, la dimostrazione che sono persone serie. Amici miei, questo era il video di oggi, se vi è piaciuto non vi resta che un segui per quanto riguarda tutti i social, iscrivetevi al canale YouTube Filiropodico 65 Aguilas Coop, la pagina Facebook Aguilas Coop, vi saluto tutti indistintamente, quindi un bel segui, il like, i commenti sono sempre accetti, quindi la campanellina per avere la notifica del video, amici miei dobbiamo essere in tanti, perché come in questo caso le denunce vanno fatte anche dal basso, da noi più piccoli giornalisti, io non sono molto piccolo, ho 33 anni di esperienza nel mondo del giornalismo, non sono l'ultimo arrivato, quindi per molti di voi forse lo sono, ma per molta gente che mi sa qui nel Salento non sono l'ultimo arrivato e sono molto avvezzo a queste situazioni, quindi come dico sempre amici miei, più siamo meglio è, più grande è la nostra cassa di risonanza. Vi voglio bene, alla prossima!